Allora, buonasera, benvenuti. Mi verrebbe da dire immediatamente che se io e Roberto, rispetto al libro che abbiamo fatto, in qualche modo potremmo assomigliare ai Dio Oscuri, in realtà poi per presentare il libro c'è una vera e propria trinità. E in mezzo a cotanto senno, devo dirvi che l'emozione è davvero grande. Due paroline per presentare i nostri graditissimi interlocutori. Maurizio Porro non è solo un critico cinematografico, che è un saggista che ha fatto innamorare di tanti film lettori che poi non l'hanno più abbandonato. Ferdinando Scianna è la fotografia, insomma, permettetemi questa specie di correlativo oggettivo. L'ho inseguito da un sacco di tempo, è la prima volta che l'ho incontro, per cui trasudo emozione anche per questo. Emilio Esgro è uno di quei geni rinascimentali tipicamente siciliani, un po' alla stregua di Roberto, che si è cimentato in tante cose con risultati eccellenti. Segnalo da ultimo un libro di poesia che sembra davvero venuto fuori dalla costola della scuola poetica siciliana. Insomma, è una specie di reincarnazione di Stefano Protonotaro. Ho scritto un libro di sonetti davvero ammaglianti. Ecco, ma stasera siamo qui per rendere omaggio a Roberto Andò. Io dirò qualcosina in funzione proemiale per poi passare il microfono, la parola a chi meglio di me potrà mettere a fuoco magari qualche snodo importante di questa conversazione. Come ho ricordato nell'introduzione, un prete particolarmente sui generis ed ereticale, palermitano, Nino Fasullo, che se non è stato sospeso a Divinis, poteva pure esserlo, una volta mi disse, io giovanissimo, devi assolutamente conoscere Roberto Andò. Io avevo visto qualche film, avevo letto poco e niente. venne fuori da quella indicazione una specie di agnizione vera e propria. Io non l'ho più mollato, Roberto Andò, quando ho iniziato a assaporarne, soprattutto la scrittura al di là dei film, e poi quegli incontri più o meno fugaci a Palermo, quelle brevi conversazioni che lasciavano però intendere parecchio, fin quando poi c'è stata la possibilità di dare concretezza a un dialogo che era discontinuo e che poi ha preso un ritmo particolare. Quando ci siamo messi a lavorare al libro, nessuno di noi sapeva che forma avrebbe preso. Gli autori sono quasi sempre all'oscuro di quello che fanno e magari lo capiscono dopo. Io quando ho letto la prima risposta di Roberto ho detto, non lo mollo più. Ed è nata una lunga conversazione che ha toccato vari snodi importanti, non solo della storia di Roberto, della sua autobiografia, degli incontri fulminanti, di questa formazione straordinaria, ma è venuto fuori anche una storia sui generis di Palermo. Come l'ha raccontata lui, non solo ricordando i nomi che contano, quelli che ancora circolano, quelli che hanno trovato posto nell'immaginario collettivo, ma anche nomi dimenticati. Penso a Corrao, che tu giustamente ricordi puntellando la conversazione con alcune intuizioni geniali di questo psicanalista che aveva capito perfettamente la natura dei palermitani e la corazza ossimorica della città di Palermo. Ecco, per cui questo libro è un libro pop-up, insomma, sembra smilzo, ma ha, diciamo, sorprendenti escrescenze, delle derive paratestuali. Si parla di un film, di un libro, e poi si lambisce il romanzesco. insomma, Robert Andò ha messo a sistema se stesso. Dalla conversazione che abbiamo fatto la settimana scorsa a Roma è venuto fuori un'indicazione che forse potrebbe essere, come dire, un modo per iniziare a parlare del libro. Cioè che questo libro possa essere considerato una specie di diario per interposta persona. Robert Andò ama particolarmente il genere diaristico. Musil, in uno dei suoi attacchi apocalittici, diceva che a un certo punto non si sarebbe più scritto niente nel mondo se non diari, perché, diceva, lui erano gli strumenti dell'autoconservazione. Ecco, noi avevamo bisogno che Robert Andò conservasse i suoi ricordi, li allineasse, anche perché viene fuori davvero un'avventura straordinaria del secondo novecento, di uno che ha letto tutti i libri, che ha visto tutti i film e che non ha mai mancato all'appuntamento determinante della sua vita. Conoscendo, cito soltanto, Leonardo Sciascia e Vincenzo Consolo, che hanno davvero puntellato la sua formazione, che hanno anche immediatamente compreso il sacro fuoco che lo animava, soprattutto Sciascia, che ha scommesso in qualche modo su di lui e ne aveva ben donde, come noi sappiamo. Il titolo lascerebbe pensare quasi a un omaggio pirandelliano, no? Se è vero, poi che l'ultimo film di Roberto ha preso la forma di un capolavoro che per leggerezza e nello stesso tempo profondità ha toccato i nervi scoperti di un mostro sacro come Pirandello, no? Senza lasciar presupporre nulla, senza peccati di presunzione, Roberto si è messo a servizio di un autore gigantesco, illuminando quel cono d'ombra che circonda la genesi e il lavoro fatto sui sei personaggi in cerca d'autore. E davvero Roberto è mosso dal piacere di essere un altro, no? Non gli basta la vita che sta vivendo, questa vita esonda, per cui poi lambisce appunto il romanzesco, che lo teorizza in modo straordinario in queste pagine. Io adesso mi fermerei per dare immediatamente la parola a Maurizio. Allora, a me faceva piacere proprio notare, a proposito del risorgimentale, che è l'aggettivo che ha usato, il fatto che per me il risorgimentale lo stringo, lo abbasso forse un po', ma per me vuol dire amare tutti i generi di spettacolo, oltre ovviamente all'arte della letteratura che sono i pilastri, ma persone come Roberto, come Martono, come pochi, non tanti, come pochi altri, che fanno questo lavoro e alternano il cinema e il teatro con una sapienza, con una costanza e anche recentemente proprio con le cose che hai fatto tu, con una coerenza stilistica e di idee professionali e anche artigianali, questo è un po' il massimo. E mi piace molto quando nel libro, soprattutto, tu parli proprio del tuo lavoro anche schiacciando il meno uno, andando sotto e tornando prima ancora che tu facessi, quando c'è l'aiuto regista, insomma, gli episodi di De Sica con quel piccolo gossip così curioso e poi soprattutto per me che lo adoro, per me Fellini, quindi mi sembra che la chiusura e il motto un po' che non esista la verità sia proprio preso da quello che diceva lui, tutto si immagina. Ma mi piace molto proprio che tutto questo rientra in una specie di grande scivolo che tu hai attraversato dove niente è stato perso e dove tutto ha contribuito a rendere storie, geografia, cultura, arte, scienza, psicanalisi a rendere quello che oggi per te è fare un film o dirigere una commedia che non sto dicendo che sono la stessa cosa però in qualche modo sono molto complementari, molto parenti, molto consanguinei e molto confinanti tanto è vero che lo spettacolo che abbiamo visto ieri sera allo Streller è molto confinante anche col cinema. Vince sempre il teatro ma la bellezza è che il cinema viene usato, viene un po' servo ma però servo utile alle cose teatrali. non si sentiva niente? E poi mi piace proprio il fatto che tu racconti per filo e per segno cosa ti hanno lasciato gli altri e parlo dei registi ma naturalmente anche degli altri e poi questa ricerca che secondo me è la ricerca essenziale di tutti quelli che fanno lo spettacolo di rappresentare l'invisibile che non è facilissimo e tu spesso ci riesci e soprattutto nella stranezza di cui si parla poco perché ancora non avevi finito comunque non era uscito bisogna avere un appendice sulla stranezza perché a mio parere il tuo film migliore è un film importante proprio perché entrare nella testa di Pirandello mentre pensa a quella cosa lì che già è complicato già razionalizzarle e pensare ma entrare mentre infieri tutto era un esperimento una sfida notevolissima e questo è bello perché porta proprio a conclusione un certo tipo di viaggio che tu stai facendo hai fatto col cinema ma vince il gerundio perché naturalmente le cose vanno avanti anche Ferito a morte è un film molto di ieri sera ce ne parlavamo io poi sono manico vedo Proust ovunque ma lì l'ho visto molto ieri sera per esempio nello spettacolo ecco mi piace pensare che il cinema italiano possa venire salvato da personaggi come te che alternano cinema e teatro e che soprattutto ne fanno un unicum perché sono stufo di sentire i residenti che dicono io vado a teatro e non vado al cinema o viceversa ma ce ne sono ancora tanti adesso il cinema è un pochino in crisi secondo me ontologica oserei dire il teatro è di una vitalità è di una vivo come non mai e quindi sono contento che anche questo libro arrivi proprio anche un po' come omaggio perché tu parli molto per esempio la parte di Camilleri quando tu l'hai portato a Siracusa è molto emozionante è molto emozionante quando parli del compito del regista dell'autore eccetera è emozionante quando citi di De Roo insomma quando il lavoro entra nella tua vita senza farne una parte così proprio di appiattimento personale personalistico soggettivo ma diventa una spinta a spiegare esattamente perché hai fatto questo lavoro dopo continuiamo se volete sì Fabiando buonasera a tutti si dice sempre così ma insomma comunque certo è per me è difficile parlare di questo libro perché mi ci sento troppo profondamente personalmente implicato forse è per questa ragione che Roberto mi ha fatto un ennesimo regalo masochistico di invitarmi a parlare di questo libro perché per me ha due aspetti uno è evidente insomma qui a parte siamo tre siciliani tre siciliani di un certo tipo forse non lo so ma sicuramente io e Roberto abbiamo abbiamo dei semi dei punti di partenza profondamente vicini e il più importante è sicuramente Leonardo Sciasce io per esempio ho scoperto leggendo questo libro perché tu non me l'avevi mai raccontato che lui a un certo punto ha accettato di diventare il titolare di una rubrica di cinema in un giornale sostanzialmente per farlo scrivere a te ecco e questo era Leonardo ha fatto ha fatto sostanzialmente con me la stessa cosa ha preso un ragazzino ignorante di 20 anni e gli ha regalato l'opportunità di fare un libro da cui è cominciata tutta la sua vicenda professionale e Sciasce non era un tipo qualsiasi avere questo seme in comune è una cosa di straordinaria importanza e consonanza tra me e Roberto ci sono per fortuna sua un certo numero di anni di indifferenza e poi ci sono io mi sono accorto l'ho sempre saputo di nutrire nei confronti di Roberto una sorta di invidia senza sofferenza insomma come raramente si può avere nei confronti di un amico perché di solito con gli altri insomma ti dà un po' fastidio quando ti piacciono ma invidia anche direi proprio esistenziale perché abbiamo certamente questa sicilianità questa cosa questo punto di partenza comune eccetera però a parte l'età io vengo nonostante fosse così vicino a Palermo da una dimensione agricola mentre invece lui viene da una dimensione urbana e anche intellettualmente ricca tua zia era Franco Indovina a casa tua c'erano i libri a casa mia ce ne erano due c'era la vita di Santa Teresa o Rita non mi ricordo bene forse e poi anche una sinossi della Bibbia di cui io leggevo solo il Cantico dei Cantici come primo libro pornografico insomma e quindi per me i libri la lettura la cultura insomma sono stati sempre una una conquista io ci ho messo del tempo per capire che la lettura era uno dei grandi piaceri della vita insomma anche perché se tu leggevi dei libri che non fossero quelli da scuola eri riproverato violentemente perché non siamo mica qui per divertirci insomma ora Roberto mi impressionava perché veniva da un humus in cui questo per lui era naturale e mi faceva molta impressione e ancora me ne fa perché una delle cose che fa impressione Roberto è la sua straordinaria cultura come ha detto Ferrita uno che ha letto tutti i libri e che ha visto tutti i film ma la cosa formidabile cioè per esempio è ovvio se no parliamo troppo di cose di origini di cose molto molto importante per me è stata una parte interessantissima ripercorrere e scoprire anche alcune cose dei suoi itinerari e anche di queste di tutte queste persone molte delle quali le ho incrociate o che non ci sono più che si sente che hanno costituito dei momenti di arricchimento e di crescita che adesso continuano a rimanere realtà della memoria che continuano a nutrire quindi c'era questa cosa però appunto volevo dire questo libro non è una cosa solo per chi conosce Roberto come persona questo è volevo dire perché se no diventa una storia tra di noi no è un libro secondo me importante perché possiamo ripercorrere un itinerario molto affascinante variegato nello stesso tempo personale intellettuale politico ed estetico che di un personaggio che ha fatto tante cose e ha continuato a crescere sino secondo me ad un punto di arrivo contemporaneo di oggi in cui tu senti che tutte queste cose tutta tutta questa ricchezza di esperienze di incontri e di e di cultura ha finito a poco a poco per diventare una sorta di 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 strumento unico e a me pare che nelle ultime cose soprattutto ma già da prima ma prima tu sentivi molto di più io sentivo molto di più questo questa questa eleganza e questo peso di uno che conosceva cose che io non conoscevo non sapevo ma adesso che so per esempio penso allo spettacolo che io ho visto ieri sera io l'ho visto con una una giubilazione straordinaria così come la stradezza mi sembra che che Roberto abbia abbia trovato abbia trovato abbia sia riuscito ad amalgamare tutto questo tutti gli scalini erano importanti ma adesso mi pare che abbia raggiunto la cosa che io più mi piacerebbe di avere io per tanto tempo ho scritto parlando per esempio di un fotografo che adoro che è per me l'esempio assoluto della leggerezza Jacques Arrell Artig il grande fotografo della bella epoca e ho scritto da qualche parte che lui c'è una cosa che un siciliano come me non potrà mai avere cioè questa trasparenza questa leggerezza e invece e invece mi sembra che soprattutto in queste ultime cioè io per esempio ieri sera quello spettacolo che poi è durato due ore a me quando è finito mi sembrava che dovesse durare ancora due l'ho l'ho ascoltato tra l'altro c'era andato con una certa prevenzione perché è difficile fare uno spettacolo teatrale a partire da un libro in genere di quel libro in particolare nei confronti dei quali io ho sempre nutrito anche una certa diffidenza perché assieme all'abbirazione per la grande qualità sinistica e anche per la capacità di trasformare queste conversazioni così meridionali così di quel tempo in una specie di metafora del tempo io l'ho vissuto come un concerto e a me è sembrato un concerto era una grande chiacchiera a pranzo tra vitelloni però di grande qualità e che nello stesso tempo si interrogavano su come uscire da questa foresta vergine che poi a un certo punto si scambiano di posto continuano continuano a a chiacchierare questa chiacchiera diventa 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 musica diventa la vita diventa un concetto così come un po' nella stranezza che è piena di tutte le capacità intellettuali che può esprimere uno come Roberto ma che è un film felice un film leggero che tra l'altro ci ha un po' anche come dire riconciliato con Pirandello che insomma non è che era un tipo simpatico assai insomma qualcuno dice anche che era un po' caroglia ma probabilmente basterebbe informarsi bene sui suoi rapporti con suo figlio Stefano per capire che proprio elegantissimo non doveva non doveva essere invece forse con questo trio incredibile l'intellettualissimo Tony Servillo e i due intellettualissimi ma nello stesso tempo attori quasi di strada insomma come Ficarra e Picone hanno dato vita a un film felice e ci hanno fatto persino riconciliare appunto con Pirandello facendo diventare naturale invece una delle grandi intuizioni della cultura contemporanea che è quella dell'arte e del teatro insomma un libro che non serve soltanto poi tra l'altro a me non sorprende per esempio è ovvio che parlando di lavoro e di un personaggio come Roberto si parla della sua polietricità ma questo non mi stupisce qui accanto abbiamo un altro che è un meraviglioso amico e che nello stesso tempo drammaturgo poeta artista concettuale figurativo insomma se uno si può divertire perché si deve privare di qualche cosa è vero e questo e questo non lo facciamo quindi un bellissimo libro il mio rapporto con Roberto è nato attraverso Sciasce eccetera eccetera ma io ho conosciuto prima di Roberto ho conosciuto Lia la mia amica è prima è stata Lia perché io mi occupavo di antropologia suo padre è stato un straordinario personaggio della cultura siciliana e della cultura antropologica fondatore di questo straordinario museo dei pupi eccetera e guardando questo libro ho pensato io ho avuto il privilegio di pubblicare un librino di fotografie dell'uomo invisibile della fotografia fatta da sua moglie Martín Franni perché Cartier-Bresson non si voleva fotografare teatralizzava questo suo rifiuto questa sua invisibilità eccetera eccetera invece le fotografie di Martín di di Enrique Cartier-Bresson erano straordinarie perché erano intanto le fotografie di una grande fotografia e poi perché secondo me contribuivano moltissimo a rivelarci la persona il personaggio eccetera così avviene con le fotografie di Lia di questo libro che sono importanti dentro il libro perché scandiscono vari momenti del lavoro di Roberto nei film eccetera eccetera ma sono anche delle fotografie interne come soltanto una fotografia di primissima qualità poteva fare mi permetto di dire che avrebbero meritato una 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 qualità diciamo visiva la qualità visiva che meritavano ma qualche volta succede io da fotografo avendo fatto tanti libri purtroppo è successo anche a me che a volte nell'editoria anche nella migliore editoria si ha una si trascura questo fatto che una fotografia non ben stampata in un libro è come pubblicare una cattiva traduzione o un testo pieno di refusi qui ci sono un po' di refusi però quelle fotografie aiutano moltissimo a apprezzare il significato del libro e del personaggio Roberto io sono un po' imbarazzato perché per quanto mi sia coscienziosamente preparato leggendo e rileggendo il libro non so da che parte a chi appare Roberto andò sfugge da tutte le parti ricordo che quando arrivai a Milano arrivai dritto in casa di Elio Vittorini che lui cita ampiamente per conversazioni in Sicilia e mi ricordo che Vittorini probabilmente influenzato da Calvino e da Giulio Einaudi mi raccomandò di far dimenticare di essere siciliano stasera stasera mi trovo contornato da siciliani e non so se la cosa è un bene per il mio futuro o è un male perché bisognava far dimenticare che si è siciliano perché evidentemente la Sicilia gode di buona e pessima fama contemporaneamente se non che e quando la Sicilia Roberto Andò lo fa magnificamente dimentica di mettere ordine nei cassetti che il disordine diventa ordine tanto è vero che c'è un quadretto un aneddoto che Roberto racconta a proposito di Sciascia dove si vede un ragazzo un uomo adulto che bussa ai vetri quando Roberto lo va a trovare in visita ad amico ad agrigente regalmonte in mare e bussa e poi sparisce aprono la porta e non vedono nessuno un po' come il personaggio di Brancati quando entrava e tutti fingevano di non vederlo entrare diceva un colpo di vento ecco a un certo punto Sciascia alla terza battuta alla finestra dice sia un mio cugino pazzo con un sorriso felice di avere un cugino pazzo che si chiamava Leonardo Sciascia perché evidentemente da noi la vita non è la pazzia non è un limite ma anzi un bene da coltivare con amore per questo la stranezza di Roberto Andò come tutta la Sicilia del resto che egli rappresenta in questo film magnificamente Pirandello è un pretesto qui è Roberto Andò che parla in prima persona perché si dice che di solito la Sicilia è pirandelliana no è pirandello che è siciliano sono due cose diverse e quindi a questo punto è chiaro che la domanda tutto il libro ce la pone perché per esempio per me già l'ha fatto magnificamente Ferdinando Scianna parlare di questa autobiografia che è in effetti una biografia di tutti i siciliani perché questo è il libro io conosco tutti i personaggi fra l'altro che lui cita proprio perché conoscevo Antonio Pasqualino anch'io ho conosciuto Lia quando tu avevi calzoni corti o li avevi appena abbandonato conoscevo sua madre il suo padre ricordo uno spettacolo dei pubi chiamato L'urbellamento di Palermo che era ti ricordo quello spettacolo che erano i Vespri siciliani quindi c'era una Sicilia ribollente che quando non ha paura delle proprie stranezze e dimentica le raccomandazioni dal represso di Elio Vittorini perché il Giulio Einaudi gli impediva di essere ciò che era che la Sicilia rompe veramente le righe anche intellettualmente forse qualche volta rompe anche le scatole intendiamoci però la sua scomodità diventa tra le cose più comode di un paese spesso allineato voi non dovete dimenticare che uno dei dei grandi poi dei futuristi era un siciliano che faceva il pecoraio se c'è una contraddizione precisa è un pecoraio che fa il futurista ti ricordo Giacomo già ecco quindi in Sicilia accadono di queste cose a me è stato purtroppo impossibile dimenticare di essere siciliano perché tutti me lo ricordano continuamente continuamente mi dico tu sei siciliano vero quindi la mia opera di cancellazione della memoria non ha funzionato il libro di Roberto Andò è importante perché riporta la Sicilia all'attenzione soprattutto la tutta la sua opera di scrittore e di regista ma soprattutto il suo straordinario film La Stranezza riporta la Sicilia all'ordine del giorno degli interessi culturali proprio quando tutti i siciliani con Camilleri sembravano spariti sembravano morti invece ci sono ancora devo dire anche una cosa Roberto che aver confessato che tu fai l'artista per il piacere di farlo è la cosa che più mi persuade perché anch'io ti posso confessare che lo faccio per il piacere di farlo e mi diverto tanto a farlo ma perché si parla molto nell'idotoria e anche nelle arti visive che tu con LIA frequenti benissimo e le conosci perfettamente si parla molto di praticamente la necessità di parlare di comunicarsi no l'arte non è comunicazione è piacere la comunicazione l'hanno inventata certi mercanti per ciò che riguarda le arti visive perché gli faceva comodo o certi personaggi del sistema ora il siciliano ha bisogno sempre di stare nel sistema c'è anche questo perché questo lo rassicura e gli consente di stare al mondo quindi prosegue dall'ordine al disordine con la massima dignità Moravia che conosceva Sciascia disse che c'è una differenza sostanziale fra l'illuminismo francese overriano lombardo diciamo così è quello di Sciascia per dei siciliani che mentre l'illuminismo francese overriano poi molto simile procede dalla luce alla dalle tenebre alla luce l'illuminismo siciliano il nostro in pratica procede procede dalla luce alle tenebre esattamente il contrario e noi questo lo sappiamo perfettamente ma è attraverso quella cecità delle tenebre che forse riusciamo a vedere forse questa la qualità che gli altri italiani generosamente riconoscono i siciliani e attraverso questo percorso a ritroso che noi vediamo meglio tutto qui quindi il libro di di Andò è invidiabile anche perché traccia questo percorso ed è anche invidiabile grazie anche al colloquio con Ferlita che gli ha offerto e alle magnifiche fotografie di Lia io conoscevo sua nonna ho fatto in tempo a conoscerla la pittrice così conoscevo il padre la mamma e attraverso questo percorso che la Sicilia dimostra oggi agli altri italiani che ci può essere un disordine recuperabile per un ordine più alto che non sia puramente la repressione che spesso qualcuno ci prospetta non ho altro da dire complimenti mi hai suscitato queste considerazioni ma io sono molto così anche confuso da queste cose che sono state dette e posso dire questo che il libro per tornare un po' a certe cose paradossi della Sicilia mi è capitato oggi di dover parlare di Messina Denaro in una trasmissione televisiva che mi ha interpellato attraverso Pirandello perché questo Messina Denaro viene visto come un personaggio di invenzione e in un certo senso lo è perché noi lo abbiamo riempito di tutta una serie di attese in tutti questi anni in cui non c'era e quindi alla fine scoprire così nelle modalità in cui è stato trovato o forse in cui si è consegnato insomma alla fine era un'intervista su Pirandello in cui si parlava di un latitante no io quello che voglio dire è che il libro che mi è stato così sollecitato dall'amicizia ormai ventennale con Toti Ferlita mi ha chiesto facciamo un libro di conversazioni è una cosa che non avevo mai fatto e che poteva anche essere alla fine mentre lo facevo mi sono accorto che corrispondeva a un mio desiderio desiderio di rivedere ormai che ho 60 anni superati tutto quello che ho fatto è anche un cammino che in certi anni soprattutto quando ho cominciato era considerato eccentrico perché fare teatro e fare cinema era già e allora qualcuno diceva eh però devi deciderti devi scegliere devi fare poi scrivere pure era una cosa altrettanto e questa cosa che col tempo poi è stata accettata e forse anche come dire vista con simpatia allora era invece visto con sospetto e allora rivederla attraverso una conversazione così un po' erratica come quella che abbiamo fatto mi ha consentito quasi di ridefinire una mappa e in cui certamente c'è in certi momenti il desiderio anche di fare degli elenchi mi sono reso conto degli elenchi di nomi come se questi nomi poi si andassero perduti e io volessi conservarli e chiaramente anche di incontri che sono stati da un certo momento in poi il segno di una adolescenza e di una giovinezza molto solitaria quindi è come se quest'incontro a un certo punto fosse diventato una necessità da un certo momento in poi gli anni della solitudine sono stati gli anni delle letture e poi c'è stato questo desiderio di incontrare delle persone ora Palermo non era la città più facile da questo punto di vista non che io non avessi degli amici della mia generazione però certamente non avevo dei riferimenti e avevo molti motivi per essere come dire per sentirmi in certi momenti anche un disperso tra i miei desideri le mie vocazioni che sentivo così quindi in quel momento per esempio trovare una persona come Shash è stato decisivo e io gli devo sicuramente il fatto come dire di aver esercitato quella cosa che secondo me ha riassunto benissimo un grande poeta che ha amato moltissimo che è Lucio Piccolo che disse a un certo punto noi siciliani abbiamo talmente pudore di esistere che preferiamo tacere questa frase che dice in un'intervista a me mi colpisce molto perché effettivamente tocca quel confine in cui un certo tipo di pudore può rimanere in silenzio per sempre e se non avessi avuto invece Leonardo che a un certo punto mi ha detto sono sicuro che tu scrivi perché non mi fai leggere le cose che scrivi eccetera e in qualche modo mi avesse incoraggiato dopo averle lette forse io sarei stato anche uno che trovava nell'eleganza del pudore una certa realizzazione ecco invece per fortuna molto presto io mi sono liberato da questa corazza e gli incontri sono tanti sono appunto anche segnati da come succede da 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 fratture penso io l'ho raccontato nel libro a a a a Toti l'incontro con Vincenzo che è stato un grandissimo amico con cui però c'è stato a un certo momento anche una rottura e poi una rapacificazione piena proprio davanti la il corpo di Leonardo eh non era difficile non era difficile litigare con Vincenzo eh però voglio dire che sicuramente ci sono questa mappa ci sono le strade anche cinema la letteratura il teatro però io mi rendo conto che eh veramente soprattutto ora più passa il tempo eh e non è un caso che quest'ultimo film che voi citate con tanti complimenti che mi fanno piacere la stranezza è un film sulla Sicilia io riconsidero quanta importanza abbia avuto quei primi anni in Sicilia cioè per esempio una cosa che che ricordo è che eh il prestigio che io ho dato presto alla parola no che è un prestigio che credo sia antropologicamente dei siciliani i siciliani hanno un grande rispetto per la parola così come hanno un grande rispetto certe volte eccessivo per il silenzio e eh sicuramente mi colpiva quando ero bambino nella cerchia dei miei familiari non vicinissimi o degli amici che venivano in casa o eh di conoscenti che venivano a salutare mio padre e mia madre un certo uso della parola più per nascondere che per rivelare ecco quella cosa lì è una cosa che da bambino colpisce e in un certo senso io penso che è da lì che nasce questa divaricazione schizofrenica fra il teatro e la scrittura cioè perché è una è una dimensione che sia del teatro perché tu capisci che c'è uno che dice delle cose ma le dice per non dirle o per nascondere un messaggio ed è un cammino teatrale cioè per forza di cose teatrali sia verso la scrittura perché tu acquisti e acquisisci una sensibilità particolare per il linguaggio e quindi penso che per esempio questa è una specie di come dire di fondamento di un'attività di un interesse che ho poi sviluppato e di anche di questa eccentricità di sguardo che va in due direzioni diverse come se queste cose non le sentissi come diceva Maurizio mai così distanti hai capito ovviamente poi uno le fa proprie io ricordo che le prime volte che dicevo anche amici carissimi l'altra persona a cui io sarò sempre grato con cui c'è stato un rapporto di amicizia veramente enorme è Francesco Rosi eppure anche Francesco i primi i franci i primi tempi che ci vedevamo e ci frequentavamo io ho fatto il suo assistente per Cristo si è fermato a Eboli e lui era stupito che volessi fare teatro mentre Leonardo è sempre stato molto aperto e diceva e perché no perché non lo devi fare perché non c'è molto motivo e Franco diceva ma sì però tu puoi sai il cinema è un'attività esclusiva eh come sì no poi lui ne ha fatto di teatro in realtà ne ha fatto ha fatto pure l'attore e come no e poi ha fatto anche tutto l'Edoardo poi dopo quando era e poi ha fatto anche l'attore con Giannini con Ettore Giannini quando faceva la rivista si faceva però nonostante questo c'era la sensazione quindi questa cosa qui l'ho sempre vissuto come una come una dimensione quasi eh eh non dico eccentrica ma anche eh col sospetto che potesse essere scambiata per una leggerezza per un modo di non in effetti eh poi mi sono conquistato un'attenzione e questa cosa è stata accettata pienamente e però nei primi tempi sentivo questa differenza che era un'impostazione culturale e sono pochissimi come dicevi tu c'è solo Mario Martone che fa come me prima c'erano molti più persone a parte Visconti Zeffirelli ce n'erano tanti dall'altra come diceva Ferdinando c'è eh l'approdo a una leggerezza che in effetti è eh proprio una patria che uno riconquista secondo me nel senso che per me è stato come tornare in una patria che tu conosci eh nei primi anni di vita e poi per una serie di motivi eh da cui ti allontani insomma eh quindi io a un certo punto l'ho ritrovata questa questa dimensione penso che sia la dimensione che oggi eh in cui mi sento oggi ecco mi sento a mio agio mi sento eh più libero ecco perché ha a che fare con con liberarsi di certi impacci che è sempre poi il segno di un cammino eh 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 artistico forse è la cosa che cerchiamo eh disperatamente di fare di liberarci di certe cose di di andare all'essenziale e quindi mi ha fatto molto piacere fare il libro mi ci sono ritrovato è un oggetto strano perché a volte prende delle pieghe impreviste certo mi sono accorto come dire rileggendolo anche attraverso è che ho accuratamente evitato di parlare della mia vita in un modo che è inquietante dovrò andare a interrogarmi su questo cioè tutte le catastrofe che sono tante che ho avuto nella mia vita familiare molto non si è menzione tutti i momenti più dolorosi e sono tanti niente è come se avessi voluto depurarla questo è tipico quasi nessuno il siciliano naturalmente noi facciamo delle antropologie da dilettanti non diciamo cose impressioni il siciliano si lamenta sempre in privato e sempre una sola persona quello diventa insopportabile può portare no ecco questo sì in pubblico non si lamenta mai cioè tu sveglio ma io sveglio di notte dei palermitani perché ti ho svegliato no è possibile nessuno gli dice mai che stava dormendo ma soprattutto la dimensione che tu che secondo me è abbastanza inedita in questo momento dire che si crea per piacere il piacere non significa che non si comunichi si comunica anche attraverso se tu non provi piacere quando fai le cose non puoi neppure darne questo è evidente quindi che piacere può dare un artista che deve lavorare per arricchire il listino di borsa o uno scrittore che deve fare nessuno perché è un infelice quindi sparge infelicità le guerre nascono anche per questo quando gli artisti si divertono e nascono meno però c'è una volta in cui ti hai sfuggito come Marcel che c'è una volta in research che parli di tua mamma parli dei libri e c'è una io come premio edipo di tanti anni l'ho beccato subito quello e quello non solo è una cosa privata ma è una cosa basilare poi nel proseguo della tua carriera e della tua vita come hai detto mi è sfuggito proprio è stato proprio un lapsus e poi su Rosi mi diverte questo la leggenda vuole che lui facesse il voice di Van D'Ausiris come no quindi è vero è vero no è vero ma sai Franco è stato poi veramente una persona a cui facevo leggere le prime volte poi i libri era anche un uomo che poi ha capito la mia dimensione però veramente quella cosa lì di sospetto nei confronti di chi fa cose diverse è forte anche nel nostro ambiente moltissimo che poi tutto il cinema italiano è stato fatto da attori di teatro non solo di teatro di varietà e di riviste di Amaspettacolo a partire di Filippo quindi che ci sia uno scontro con delle cose è allucinante è solo pensarlo è vero è vero diciamo infatti ho letto in questi giorni questo libro che ha fatto è uscito postumo con la cura di Agosti sul Lucchino Visconti e diciamo appunto mi riconciliavo con una biografia dove invece c'è questa sì forse era un'epoca diversa era un'epoca però anche Visconti in definitiva era un caso no? perché sì poi l'altezza lì senza altro e comunque dava fastidio pure quella cosa anche a Visconti secondo me sì insomma ho letto nelle note di Agosti che sono bellissime quanto il libro ci sono molti riferimenti ai grandi diciamo depreciatori di Visconti e ce n'erano che dicevano fa troppe cose pure quindi e poi tu citi un cine club che ho letto anche un libro di Monreale che è uscito adesso molto interessante la base il cine club Lubitsch Lubitsch come no il cine club di Franco Maresco sì che faceva i cicli di Pasolini immagino che fossero un pochino un salto verso come un senso del pudore no beh ho visto lì delle retrospettive pazzesche che poi la vita a Palermo era anche questa queste fecero una retrospettiva su Shakespeare e il cinema strepitosa meravigliosa e poi Pasolini appunto puoi dire sì intanto volevo ricordarvi che potete acquistare il libro e approfittare anche la presenza di Roberto per farvelo firmare e fotografare rileggendolo in vista di questa presentazione poi a un certo punto mi sono chiesto ma come si diventa Roberto Andò perché è una storia sì per tappe una specie di escalation la tua ripeti l'ho contato almeno sette otto volte la parola piacere poi a un certo punto la parola piacere diventa godimento e forse questo è il segreto di questo tuo immaginario erratico io dico che Roberto è una specie di esemplare strano affetto da dromopatia dell'immaginario è uno che non sta mai fermo Maurizio lo sa meglio di me che far copulare cinema teatro e letteratura è complicato ci vuole un genio particolare e il talento di Roberto forse consiste anche in questo saper prendere le distanze da certi canoni rigidi perché la sua storia è una storia di una originalità conquistata ma questa originalità poi doveva essere anche riconosciuta da parte di chi gli diceva ma perché non fai solo cinema ma perché non fai solo teatro o ma perché pure scrivi romanzi e allora questa specie di immaginario erratico si è cibato diciamo delle libagioni migliori perché questo è anche un libro sulla Sicilia no? qui c'è una specie di escrescenza di sicilitudine davvero impressionante e sempre viene fuori Ferdinando lo sa meglio di altri il rapporto strano che i siciliani intrattengono con la morte diceva Bufalino i siciliani sono quegli strani esseri che stanno tra tanatofobia e tanatofilia come se stretti tra Scilla e Cariddi poi il segreto di Roberto è che la sua non è un'immersione viscerale nelle cose siciliane perché poi parla della morte attraverso il filtro di Elia Scanetti allora forse il segreto della sua quintessenza sta proprio in questa sorta di Sicilia mitteleuropea che ha vissuto sulla sua pelle affetto da una specie di patologia da ulisside strano pendolare viene a Palermo poi se ne fugge poi ritorna non l'ha mai abbandonata ma non si è mai attaccato allo scoglio e diciamo questo è anche un po' il segreto di questa charada che parlare di Robert Andò significa anche parlare delle ragioni dell'immaginario dell'ispirazione uno dei suoi film più belli non a caso è il manoscritto del principe dove lui mette le mani dentro a una materia magmatica che aveva a che fare non solo con la genesi di un capolavoro ma anche con un rapporto di filiazione di maestro allievo tormentato complicato come solo i siciliani sanno viverlo e poi declinarlo quindi è davvero un libro che può fornire delle risposte illuminanti al solito geroglifico che ci inquieta perché la Sicilia in qualche modo continua a essere una pietra d'inciampo una terra dell'eresia ecco a rileggere le risposte che mi ha dato Roberto mi viene da dire che Roberto è uno di quei siciliani ultimi di quelli che hanno saputo metabolizzare la tradizione siciliana che è particolarmente ingombrante però poi l'ha saputa rinnovare in questo gioco di legame a una tradizione a una memoria di passione ed emozioni e poi la capacità di rifondarla sta probabilmente il segreto del suo successo e ha dimostrato come ad esempio uno come Pirandello che la scuola ci ha fatto odiare lo diceva prima anche Ferdinando se i personaggi in cerca d'autore è l'opera più misconosciuta i professori al liceo te la presentano come il dramma più cervellotico di Pirandello arriva Roberto Andò e ci dimostra che in realtà Pirandello lì comprende che il teatro non può fare a meno della vita cioè che il teatro deve compromettersi con l'esistenza quei personaggi che sembrano degli immigrati che cercano chiedono pretendono una certificazione di esistenza in vita ma è sembrata davvero una chiave di lettura straordinaria che ci dice tanto su Pirandello ma ci dice anche soprattutto tanto su questa terra così ossimorica e così disgraziatamente folle io vorrei dire una cosa però perché non c'è forse insomma avvicinare a questi 80 anni questa storia cioè non vorrei che intanto Roberto che è il protagonista di questo libro e di questo incontro siciliano siamo siciliani anche noi che fosse la solita sicilianata che torniamo ancora una volta a dire insomma che comunque perché certo sì va bene la Sicilia è una maledizione un destino ma è anche poi tra l'altro ha contribuito moltissimo questo famoso discorso del principe dell'Apedusa con Cevallè per cui noi non cambieremo mai non possiamo cambiare perché siamo degli dèi eccetera eccetera i siciliani forse sono antipatici anche per questo perché hanno finito con diventare antipatici perché se la tirano come se fossero specialisti invece forse non è vero insomma cioè è vero e non è vero è necessario ma come è necessario a qualunque luogo io mi ha molto impressionato ho fatto di un libro mio che mi premo molto che mi premo un libro sul mio paese che era tiravo le fila su quelle cose qui paradossalmente questo libro è cominciato con una mostra fatta a Lugano e a un certo punto è venuta una signora e mi ha detto ah mi sono molto commossa questo libro allora mi è venuto quasi naturale no perché lei è siciliano io sono di un maso qui sono svizzera da tre generazioni ma allora come mai questa emozione lei mi ha guardato con sarcasmo e mi ha detto ma perché crede di essere stato giovane solo lei cioè in realtà in realtà ciascuno di noi ha una Sicilia alle spalle io proprio in quel libro lì avevo messo come exergo in conclusione una frase di Alberto Savinio in cui dice soltanto che ha un villaggio nella memoria può fare un'esperienza cosmopolita ecco questo mi pare un ritratto di Roberto Adunio ricordo che nel libro ci sono le foto di Lia che raccontano parallelamente la storia avventurosa e la biografia straordinaria di Roberto e puntellano diciamo anche con amore le parole che Roberto ha allineato e contribuiscono a creare questo percorso affascinante che tocca la Sicilia e poi arriva sfiorando vette lontanissime e divaricate grazie 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 grazie